E di Agrigento la migliore pizzeria della Sicilia, scelta da lettori del portale All Food Sicile e da una giuria di esperti che hanno premiato Canofino del villaggio Mosè di Agrigento. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri nel fuori del teatro Pirandello di Agrigento, nel Condes, che ha lo scopo di valorizzare e diffondere la cultura della pizza nell'isola. Il locale Agrigentino ha ottenuto circa 5.000 voti e dalla giuria 69 punti su 78. L'ambito riconoscimento è stato conteso da decine di pizzerie di tutte le nuove province siciliane. Diversi sono stati i premi speciali assegnati, tra questo anche quello per il migliore impasto e per la scelta delle materie prime. Il titolo di migliore pizzeria di Sicilia 2023, oltre all'Agrigentina Granofino, è stato assegnato ex equo anche ad altri tre locali, rispettivamente delle province di Caltanissette ed Enna. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Agrigento e l'assessore, Costantino Giulla. Sono tre anni che noi lavoriamo per far conoscere le eccellenze del territorio siciliano. Il mondo della pizza in Sicilia è molto avanti. Rispetto alla Campania, che comunque per tutti è la padre della pizza, la Sicilia veramente non lascia mancarsi nulla. Prodotti eccellenti, i pizzaioli che si cominciano a formare, veramente stanno facendo un percorso brillante nel mondo degli evitati internazionali e nazionali. Questo premio serve chiaramente a unire quello del voto del pubblico e il voto della nostra giuria di esperti, perché quest'anno lancieremo la nostra prima guida sulle migliori pizzerie della Sicilia, perché c'è questa esigenza. La gente ha bisogno di turisticamente girare i posti più belli della Sicilia, ma affiancare a loro le pizzerie o ristoranti che fanno qualità. Questo è il nostro obiettivo e oggi ad Agrigento abbiamo veramente il piacere di presentare i vincitori e anche i premi speciali di questa nuova edizione. Qual è la pizza che vi ha subito di più? Sicuramente tutte le pizzerie che abbiamo all'interno del nostro premio sono di altissimo livello. È chiaro che noi abbiamo delle preferenze non solo a livello della qualità della pizza, ma guardiamo il servizio, guardiamo il marketing, guardiamo la comunicazione. Per noi è importante che una pizzeria comunichi al proprio cliente quello che fa, quello che propone e l'alta qualità sicuramente è il valore aggiunto.